Conosci il festival omaggio a una visione? No. Ok. E Darko Bratina non conosci? Eh, non conosciamo. Tu conosci chi? Omaggio a una visione il festival. Ok. No. E chi lo organizza? Zero. No. E su Darko Bratina cosa sapete? No. Non conosco. No. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Ok. E Darko Bratina konošete? Ah. Bratina si. Sapevok mera e quello che ha fatto. Ti znaš, ko je tega festival imate po Klamboziji? Ne. Na žalost ne. Kakšen festival pa je to? Kako mislite? Festival Cesa je to? Ja. Cesa Filma si mislite. Ja. Ne. Ne. Non conosco. Erobe, No con suretti. connecting